Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far chiedere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare, come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta. Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'è solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare cinque, a volte sei giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose, come si fa in un giorno a costruire la vita. Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché se no, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita in cambio di due milioni e mezzo al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano due milioni e mezzo al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrà diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, diciamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate con quello che le sorveglia a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'è il mitra e la nuca e lo faccio perché faccio il discorso, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare, ho la tua ragione e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Se tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, non dico che lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la terra a girare intorno al sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto, eh sì, sono ventidue secoli che tutti dicono che il sole che gira intorno mori di te a dire questa stonzata e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affermia, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando otto decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, della macchina, no, è un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorderci che siete tutti morti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.